Salve a tutti, oggi sono all'interno del modulo di comando e di servizio dell'Apollo 11, questa famosa astronave americana che ha segnato profondamente il secolo scorso, permettendo all'uomo di raggiungere la luna per la prima volta. E questo perché voglio parlare di un argomento e di una persona che è in un certo senso di attualità, e cioè di ieri la notizia della morte di Neil Armstrong, che è stato appunto il primo astronauta dell'equipaggio dell'Apollo 11 a sbarcare sulla luna, a mettere il famoso piede, il primo piede sulla luna e a dire la famosa frase che tutti conosciamo, questo è un piccolo passo per un uomo ma un grande passo per l'umanità. Di cosa voglio parlare? Voglio parlare prima di tutto del fatto che c'è ancora, e comunque continuano a girare le idee del complotto, del fatto che gli americani non sarebbero mai andati sulla luna, e appunto sia tutta una messa in scena televisiva realizzata da Hollywood, siccome gli americani in teoria non sarebbero riusciti ad andarci, perché è altrimenti difficile, come in effetti è andare sulla luna, avrebbero creato praticamente un fake cinematografico. Su questo argomento si sono espresse persone che conoscono meglio di me l'argomento, e invito ad andare a vedere tra gli altri un bellissimo documentario di Discovery Channel, in cui vengono prese singolarmente tutte le obiezioni che vengono fatte dai complottisti, e a ogni obiezione viene data una risposta, dal fatto che non ci siano stelle nel cielo delle foto lunari, spiegando appunto come sa ogni fotografo che questo dipende dall'esposizione, oppure dal fatto che le obiezioni sono state tante, ma il fatto per esempio che ci siano le ombre che non sono parallele, e questo se noi andiamo a vedere sulla Terra anche, benché ci fosse un'unica fonte di luce, quindi il Sole, un'unica fonte di luce, quindi il Sole, le ombre sembrano non essere parallele, ma questo avviene anche sulla Terra se noi facciamo dei semplici esperimenti e così via. Non voglio esporre tutte le varie questioni, ricordo semplicemente che forse due delle questioni più forti, che mi sembrano giusto ricordare, che quando l'Apollo 11 andò sulla Luna lasciò parecchie cose, a parte la bandiera, a parte la placca, a parte il rover, cioè questa macchinetta con cui si spostavano, ma l'EM, cioè il modulo di allunaggio, dovete lasciare i piedistalli di atterraggio appunto sulla Luna. Se noi avessimo un telescopio abbastanza potente e lo puntassimo verso una zona meridionale occidentale, per così dire, del mare della tranquillità, vedremo appunto i resti dell'EM, il rover, la bandiera e altre cose. Inoltre sul posto è stato lasciato anche uno specchio riflettente che viene usato dagli scienziati americani per calcolare continuamente la distanza da Terra alla Luna e altre caratteristiche. Questi sono tutti dati di fatto concreti che si trovano sulla Luna e sono stati portati fisicamente dall'uomo. Un'altra cosa velocemente da dire è che c'è da considerare una cosa, la lotta per la conquista della Luna era una cosa molto importante nella Guerra Fredda. I russi avevano un loro razzo su cui cercavano di creare la loro possibilità di sbarcare sulla Luna che mi pare si chiamasse Proton. Il Proton che venne sviluppato all'inizio da Kot Kirolov, mi sembra, che però morì durante il progetto, un po' il grande genio della missilistica russa come in America invece c'era quello scienziato tedesco, adesso non mi ricordo il nome, che curò molto il discorso del progresso della missilistica russa che portò poi alla realizzazione del Satur V che fu poi il cavallo da tiro di tutte le missioni lunari. Ebbene, se i russi che non ce la fecero alla fine mandarono solo una sonda per sfidare gli americani ma non mandarono un equipaggio umano perché il Proton appunto fallì in maniera anche devastante perché ci furono molti morti durante un tentativo di lancio del Proton se i russi o anche i cinesi i russi soprattutto, i sovietici avevano i mezzi per vedere, per capire se c'era un complotto, se c'era una falsità e l'avrebbero detto il giorno dopo non dissero niente né il giorno dopo né un mese dopo né 42-43 anni dopo insomma perché in effetti sulle ordine si è andato quindi il mio suggerimento è per carità, su tutto si può dubitare ed è giusto dubitarlo però bisogna farlo appunto con cognizione di causa e soprattutto dire perché pensi che non siamo andati solo una cosa è che contesti di prova che ti viene data ecco, come dico ci sono ottime contro risposte in un documentario di Discovery Channel che si intitola appunto aspettate vi dico il titolo esatto che lo potete trovare sempre qui su Youtube e in italiano basta cercare Discovery Channel la verità sullo sbarco della Luna sulla Luna che secondo me è abbastanza buono perché praticamente contromate tutte le obiezioni questo per quanto appunto riguarda il fatto che siamo andati o non siamo andati ribadisco che secondo me è stato un momento epocale perché se noi pensiamo a che cosa ha significato le difficoltà enormi non solo nell'Apollo 11 e per arrivare all'Apollo 11 che è stato un processo lungo almeno 10 anni con un investimento enorme ma anche il fatto che comunque il fatto che non fosse una cosa semplice si vede nella missione Apollo 13 che appunto durante il viaggio ebbe un incidente tanto grave che la costrinse sia arrivare fino alla Luna ma non atterrare e tornare indietro con il rischio di non portare l'equipaggio vivo sulla Terra quindi è sicuramente un momento importantissimo della storia umana che rimarrà come grande successo non solo dell'America perché credo che appunto partecipò questo tedesco e altre personalità ma credo che sia un monumento all'ingegno umano che rimarrà poi per moltissimo sulla Luna perché quello che è stato portato sulla Luna non è soggetto alle intemperie e alle corrosioni che ci sono sulla Terra quindi teoricamente potrebbe durare per molti, molti secoli migliaia di anni eccetera voglio venire un attimo invece quindi concludo dicendo che mi ha toccato un po' la morte di Armstrong non perché lo conoscessi eccetera ma perché appunto è un personaggio chiave molto importante molto più di tanti politici e di altre personalità del secolo scorso anche se non è solo merito suo perché lui semplicemente ha stato l'equipaggio ci ha messo il coraggio di andare a fare una cosa difficile rischiosissima come abbiamo visto sia recentemente ma anche in tutta la storia della NASA una cosa rischiosa l'equipaggio Ash ha avuto il coraggio di imbarcarsi in questa impresa che è un po' lo spirito dell'uomo scoprire e rischiare scoprire e rischiare quindi sono dispiaciuto che se ne sia andata questa personalità importante quello che voglio dire invece sul discorso dei complottisti escludendo quelli che magari in buona fede magari non hanno particolari condizioni di astrofisica di fisica eccetera e che quindi invito sempre comunque se sono in buona fede a informarsi perché non bisogna mai avere paura di cambiare opinioni non solo di criticare ma anche di cambiare quindi magari il complotto nel caso della luna non c'è come io sono assolutamente convinto fino a prova contraria che non ci sia e come dico basta avere un buon obiettivo un buon teleobiettivo e possiamo andare a vedere i passi il famoso passo addirittura che ancora sarà lì perché non c'è un vento che lo abbia cancellato mi rivolgo invece magari a qualcun altro che si fa un po' trascinare dal complottismo secondo me per motivazioni psicologiche che siamo sempre lì cioè come dire la mia impressione è che ci siano persone che si magari perché vogliono sentirsi più importanti magari in maniera inconscia si autoconvincono di aver fatto una grande scoperta che la maggioranza ancora non ha visto loro sono dei risvegliati in questo senso hanno colto una cosa che gli altri non hanno visto e quindi in questo senso sono superiori secondo me questa è la cosa che è la base di alcuni complottismi perché non voglio criticare il complottismo in senso assoluto perché può darsi che ci siano dei complotti delle benzogne soprattutto magari lo fanno più i politici che gli scienziati è questo da dire però che ci siano può darsi soprattutto in politica eccetera ricordiamoci però che tanti casi ne cito uno tra i mille il manoscritto dei saggi di Sion contro gli ebrei si è dimostrato essere un falso e così tante altre cose quindi queste cose si creano per fomentare un certo odio un certo sospetto tutti i sentimenti umani che vanno però controllati da una razionalità allora io dico a questi complottisti cerchiamo però di non mettere avanti il nostro ego in questo senso ma cerchiamo sempre di avere l'umiltà di metterci in discussione e se capita che gli altri hanno una ragione non farne un dramma ma appunto allora dobbiamo chiederci che cosa ci a chi a chi giova il fatto che noi potessimo scoprire che gli americani non sono andati sulla luna perché è vero che gli americani poteva anche essere utile fingere di andare sulla luna quindi c'è un come dire un interesse in un certo senso però se noi andiamo a vedere anche i risvolti economici di creare una simulazione dello sbarco lunare con tutte le persone coinvolte il costo sarebbe stato talmente elevato che economicamente è più conveniente mandare effettivamente gli uomini sulla luna del resto questo è stato anche un po' strumentalizzato rilanciato da alcuni film mi pare che comunque sul complotto si era parlato anche di Gagarin che non portò fotografie quindi si disse i russi in realtà non sono andati neanche loro nello spazio ma in realtà è tutta una messa in scena in cui hanno dato semplicemente una sonda e basta oppure più importante forse uno dei tanti film è Capricorn One che è un film degli anni 70 chi non l'ha visto parla di una simulazione di un viaggio su Marte però la struttura è la stessa la NASA non può mandare queste persone ormai ha avuto i finanziamenti mette in scena tutta una registrazione per cui gli astronauti sono andati su Marte li filma fa finta che tornino come una sonda eccetera solo che succede un incidente durante il ritorno della sonda gli astronauti in teoria sono morti e quindi non li possono rilasciare e poi chi non ha visto il film lo invito a vederlo però è interessante come potenzialmente quello che può essere successo ma appunto questo è un film questo veramente è un film sul discorso dello sbarco della Luna invece io non solo credo ma ci sono gli elementi scientifici per dimostrare che questo è avvenuto e io riguardisco è una volta tanto una prova del genio delle capacità umane straordinarie perché siamo l'unico animale di questo pianeta che è riuscito con successo a fare un viaggio di fuori di questo pianeta quindi un altro corpo celeste per quanto vicino e tornare sani e salvi a terra quindi questo è il mio pensiero in merito io spero che su questo comunque ci sarà un dibattito vi ringrazio per avermi seguito e vi saluto dal modulo di controllo e di servizio dell'Apollo 12 salve a tutti